Buongiorno ragazzi, a parte divertire, arriviamo a portare a portare una bella carica, che è così umani, è noccio. Ma come fa, come fa, se non si sta lungo, è una vostra maniera. Ok, la porta e poi toci un provvedo, è un litio che si sta lungo, è un litio che si sta lungo.